La scelta Torino non è stata difficile, parliamo di un club ambizioso, di un club con grande storia, quindi è stata una scelta abbastanza semplice e arrivo qui con grande voglia e con grande entusiasmo. Conosco la maggior parte del gruppo, ho giocato con Izzo, con Rincon, conosco Siri, Cubaselli, Belotti, Zazza, ne conosco molti. Sarò felice di conoscere anche gli altri, il resto del gruppo e non vedo l'ora di iniziare. Mi sento bene, l'infortunio è alle spalle per fortuna, mi sento bene e adesso spero di trovare quanto prima l'alchimia con il gruppo e di mettere in mostra le mie qualità al servizio della squadra. Scelgo il 38 perché il numero con cui sono in serie A e lo porto da sempre con me. Faccio un saluto caloroso a tutti i tifosi Granata, spero di vedervi quanto prima allo stadio, sperando passi questo periodo e sempre forza Toro. Ciao! Grazie a tutti!